Più turisti a Conegliano. I dati del Comune sulle presenze e sugli arrivi in città confermano il buon trend riscontrato negli ultimi anni, spinto nel 2015 dalla mostra sul Carpaccio e forse dall'indotto generato dall'Expo milanese, dove il territorio delle colline del Prosecco si è fatto ampiamente conoscere. A Conegliano le presenze del 2015, cioè le persone che hanno dormito in città due o più notti, sono state 161.000 a fronte delle 157.000 del 2014, circa il 2,6% in più. Gli arrivi, cioè turisti che hanno dormito a Conegliano una sola notte, sono passati dai 76.000 del 2014 agli 81.000 del 2015, con un balzo in avanti del 7%, merito anche della decisione presa dall'amministrazione sulla tassa di soggiorno. Noi abbiamo da subito, quando abbiamo applicato l'imposta di soggiorno il 1 agosto 2014, abbiamo istituito la consulta del turismo, che è un organismo dove ci sono i vari attori del territorio, dagli albergatori, i ristoratori, i bed and breakfast, alle guide turistiche, alle agenzie di viaggio, perché noi crediamo che le agenzie di viaggio possono anche fare incoming, non solo outcoming. E abbiamo investito i soldi che abbiamo preso durante il 2015, dal 1 gennaio al 31 dicembre, che è una cifra attorno ai 113.000 euro, li abbiamo completamente reinvestiti nel turismo. Come? Ad esempio con una brochure che è uscita recentemente sul venerdì di Repubblica, per promuovere la mostra dei Vivarini, che è partita adesso a febbraio e finirà a giugno, dove viene sì raccontata la mostra, ma anche promosso il nostro territorio, un territorio che è un territorio che sta cercando la candidatura UNESCO a patrimonio dell'umanità.